Emma, 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 Emma. L'unica cosa che riuscirò a imparare è che sono sedate questa mia nonna. Però in quella sport ho una mia nonna perché era l'unico testo che sapevo. Nella fine invece è rimasta e ho pensato che come portafortuna l'avrei cattata comunque e così è qui. Voi mamma! 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 Voi mamma!